Ciao a tutti, mi chiamo Fabio Jacometti, sono un laureando del corso di laurea magistrale di urbanistica e oggi in un minuto voglio raccontarvi la mia esperienza da studente, ma soprattutto raccontarvi che cos'è questa disciplina per chi non la conoscesse. Io pensavo prima di scrivermi che l'urbanistica si consumasse solo tramite le leggi e i decreti, poi ovviamente ho scoperto che non è così, anzi è una disciplina molto vasta, che non solo studia, regola e pianifica gli insediamenti territori, ma tratta anche temi molto importanti, quali la sostenibilità, la cooperazione, la partecipazione, i sistemi informativi e molto altra ancora. La sua pluridisciplinarità è veramente straordinaria, motivo per cui la nostra facoltà ci insegna ad avere una visione a 360 gradi delle cose, proprio perché il ruolo dell'urbanista è un messare molto importante, perché esso ci mette a contatto con il mondo in tutti i suoi aspetti, tecnici, sociali, culturali, estetici e molti altri ancora. La nostra facoltà ha molta premura di insegnarci il giusto approccio, ma soprattutto di farci arricchire il nostro bagaglio culturale non solo sui libri, ma anche tramite tutti i viaggi studio che ne hanno ci offre. Non mi sono mai pentito di questa scelta e se qualcuno ha interesse per questa disciplina consiglio vivamente di approfondirla. Un saluto!